Good morning ragazzi e benvenuti in questa nuova video lezione del Prof.Betti. Anche oggi parleremo sempre dell'espansione della Repubblica Romana che cominciò dopo la Seconda Guerra Punica ad allargarsi sempre di più fino a comprendere praticamente quasi tutte le sponde del Mediterraneo. Bene, come sempre preparo PowerPoint e cominciamo con la lezione. Oggi parleremo quindi dell'incredibile espansione che ebbe la Repubblica Romana subito dopo la Seconda Guerra Punica e per un centinaio di anni circa vedremo come la Repubblica Romana appunto si espanse e andò a coprire praticamente quasi tutte le sponde del Mediterraneo. Ovviamente, come sempre quando facciamo lezione di storia romana è fondamentale l'utilizzo della cartina per comprendere bene quali furono i movimenti delle truppe romane. Cominciamo dicendo che la prima fase fu una sorta di riconquista seguita alla Seconda Guerra Punica. Vi ricorderete che durante la Seconda Guerra Punica Annibale dalla Spagna via terra raggiunse l'Italia attraverso le Alpi e fece sollevare diversi popoli contro i Romani. Ebbene, i Romani partirono proprio da lì, cioè tornarono ad attaccare a nord la zona più o meno della pianura padana dove vi erano la popolazione dei Galli, Boi e Insubri che avevano seguito Annibale nella sua impresa. Quindi riconquistarono la zona del nord Italia che già possedevano prima della Seconda Guerra Punica. Dalla Seconda Guerra Punica deriva anche la nascita di due nuove province romane, la Spagna Citeriore e la Spagna Anteriore. Queste due province erano divise nel mezzo dalla Sierra Morena e nel 197 a.C. si decise di dividere la Spagna in due zone, in due province, perché era un territorio molto vasto e molto difficile altrimenti da comandare. Quindi alle province di Sicilia, che come vi ricordo è la prima provincia romana, e di Sardegna e Corsica, che erano la seconda provincia romana, si aggiunsero anche le province di Spagna Citeriore e Spagna Anteriore. Per comodità, diciamo così, i romani decisero di attaccare anche i popoli dei Galli che abitavano tra l'Italia e la Spagna, praticamente. Questo perché ovviamente gli serviva per collegare anche via terra la Spagna all'Italia. E nel 125 a.C. riuscirono a sconfiggere le resistenze dei Galli e andarono a creare una nuova provincia, quella della Gallia Transalpina, che corrisponde più o meno all'attuale Provenza. Infatti il nome Provenza deriva proprio dal nome provincia, che era stato dato nel periodo romano. Quindi, come vedete, a ovest siamo già a buon punto, diciamo così. L'altra zona in cui i romani decisero di espandersi fu l'Oriente. L'Oriente era una zona particolarmente instabile da un punto di vista politico. C'erano molti regni potenti e in conflitto fra di loro. Vi ho fatto vedere quelli che sono un po' i principali, il regno dei Pelomei in Egitto, quello dei Seleucidi in Siria, il regno dei Parti, il regno di Pergamo, che invece fu alleato di Roma in questo periodo, e il regno di Macedonia. A sud del regno di Macedonia poi c'erano le polis greche. Alcune semplici città da sole, come Spartatene, altre che avevano formato delle leghe, quindi alleate fra di sé. Non tutto il Senato era d'accordo nell'espandersi verso l'Oriente, sia perché queste zone erano comunque considerate più avanzate, da un punto di vista anche culturale, ovviamente in particolare la Grecia, ma anche perché si pensava che fosse meglio concentrarsi sul, diciamo così, mantenere la pace nelle regioni appena conquistate a ovest. In realtà però c'erano soprattutto i mercanti, il ceto medio, potremmo definirlo così, dei Romani, che spingeva per conquistare anche l'Oriente nella speranza di grandi ricchezze. E in effetti alla fine fu quello che accadde. Il primo motivo per cui i Romani andarono a toccare anche la zona dell'Oriente riguardò una regione, che era quella dell'Illiria. Questa regione corrisponde grossomodo all'odierna Istria, quindi siamo in Croazia più o meno. Anche questa regione era già sotto il controllo romano, anche se indiretto. Che cosa successe? I Macedoni, durante la Seconda Guerra Punica, sempre quella, cercarono di conquistare l'Illiria. Ciò provocò ovviamente la reazione romana. E alla fine si giunse alla Prima Guerra Macedone, che vide opporsi i Romani al re di Macedonia, Filippo V. Questa guerra durò diverso tempo, come vedete, dal 215 a 205 a.C. E alla fine i Romani ne uscirono comunque vittoriosi, anche se non conquistarono il Regno di Macedonia, semplicemente conquistarono, riconquistarono anzi, l'Illiria. Successivamente, però, vi fu una Seconda Guerra Macedone. Perché? Perché i Romani volevano, in particolare, puntavano, diciamo, alla conquista della Grecia. E che cosa succede? Filippo V comincia a fare delle pressioni per conquistare proprio quella zona lì, quella della Grecia. Quindi i Romani, per non farsela scappare, decidono di intervenire ponendosi un po' come i salvatori della patria greca, quindi i difensori della cultura ellenica, in particolare nella figura del console che guidò questa guerra, cioè Tito Quinzio Flaminio, che quindi si pose a capo di un esercito per salvare i greci dal Regno di Macedonia. Questa guerra non durò moltissimo, come vedete, tra il 201 e il 197 a.C., l'esercito romano ebbe la meglio su quello macedone e così i Romani si posero come salvatori dei greci e, diciamo, diventarono un po' i protettori. Vi ricordate? Anche Alessandro Magno fu protettore della Grecia, insomma, era normale diventare protettore della Grecia. In questo momento i Romani si posero come protettori della pace in Grecia. Che cosa succede però? C'è un re, il re dei Seleucidi, Antioco III, che decide di sfruttare la situazione e vuole provare a conquistare lui a questo punto la Grecia. Quindi interviene con il suo esercito, ma si scontrerà di nuovo contro l'esercito romano, in particolare nel 191 a.C. ci fu una battaglia di nuovo alle Termopili, che noi ricordiamo per le guerre persiane, da cui uscì vittoriosa l'esercito romano e poi nel 189, presso Magnesia, la battaglia definitiva, che pose fine alle mire espansionistiche di Antioco III. Infatti nel 188 a.C. venne firmata una pace, la pace di Apamea, che, diciamo, ridusse di moltissimo le ambizioni del re. Infatti venne distrutta la sua flotta, molte parti del suo regno vennero cedute ad altri regni. Insomma, Antioco III fece veramente una brutta figura e le cose andarono molto male. Che cosa succede però adesso? Non contento, il re di Macedonia, questa volta il figlio di Filippo V, che nel frattempo era morto, il re Perseo cerca di nuovo di sollevarsi contro i Romani, scatenando così una terza guerra macedone, che metterà fine poi proprio al regno di Macedonia. Infatti questa guerra verrà combattuta dal consule Lucio Emilio Paolo, che riuscì a vincere abbastanza agilmente contro l'esercito macedone, e la guerra durò dal 171 al 168 a.C. Dopo questa guerra il regno di Macedonia cessò praticamente di esistere. Diventò un protettorato sempre dei Romani, finché alla fine, nel 148 a.C., visto che c'erano ancora delle ribellioni in Macedonia, alla fine i Romani decisero di conquistarla definitivamente e di renderla una nuova provincia della Repubblica Romana. Anche i Greci non ci stavano ad essere, diciamo così, protetti dai Romani, e quindi si formò una nuova lega di Corinto, che cercò di ribellarsi, e anche in questo caso intervenne però l'esercito romano, che nel 146 a.C. conquistò la Grecia, creando nuovamente un'altra provincia. L'ultima provincia di cui vi parlerò in questa lezione è quella del regno di Pergamo. Infatti, che cosa succede? Il re di Pergamo muore e, non avendo eredi, nel 133 a.C., decide di lasciare i suoi beni proprio ai Romani, in segno di pace, poiché erano appunto alleati di lungo corso. Quindi, nel 133 a.C., senza colpo ferire, potremmo dire, i Romani riuscirono a conquistare anche quella che più o meno è l'attuale Turchia. Come vedete, alla fine di questa lezione, nel giro di praticamente 60 anni, i Romani riuscirono a espandersi in quasi tutto il Mediterraneo. Bene, come sempre, spero che questa video-lezione vi sia piaciuta e spero di rivedervi prima o poi.